Il Patto di Misericordia di Padre Stefano Maria Miotto Parliamo di una antichissima tradizione secondo la quale Gesù promise alla madre sua che chiunque ricorre a lei otterrà misericordia. Questa tradizione è molto viva nei cristiani dell'Etiopia e da loro è celebrata ogni 16 del mese come festa liturgica sotto il titolo di Patto di Misericordia. Si tratta di un patto tra Gesù e Maria per la salvezza dei peccatori che costituisce uno dei pilastri della spiritualità etiopica. In tutta la cristianità è sempre stata viva la consapevolezza che la Madonna è un dono della misericordia di Dio e non sono pochi i santi che hanno affermato che chi ama e prega Maria certamente si salverà. Tuttavia questa consapevolezza è particolarmente viva nei cristiani dell'Etiopia, terra di antica evangelizzazione e di forte devozione mariana. Particolarmente significativo è il seguente testo liturgico etiope O Maria, il tuo pensiero è pieno di tenerezza, la tua abitudine è amare gli uomini, l'amore ti incendia le viscere, sei diventata di fuoco, la tua preghiera mi sia dovunque in ogni mia prova, custodia di giorno, veglia di notte. Ma veniamo ora al patto di misericordia, così come riportato nel Tamra Mariam, ovvero nel libro dei miracoli di Maria, di autore mediovale. Maria pregò il suo figlio dicendo, ti scongiuro figlio mio per il presepe nel quale hai dormito e per le fasce che ti hanno avvolto. O figlio mio carissimo, ti chiedo e ti supplico affinché ascolti la voce della mia supplica e soddisfi il desiderio del mio cuore. Quando la nostra signora Maria, madre della luce, ebbe detto queste cose, il nostro signore Gesù Cristo discese accompagnato da migliaia di angeli e le disse Cosa farò per te, oh madre mia, e che cosa vuoi che io faccia per te? E la nostra signora, Santa Vergine Maria, rispose al suo figlio e disse Signore, retribuisci con il grande premio tuo chi fa la mia commemorazione. Ti supplico, Signore, e chiedo a te, per ogni uomo che crede in me, liberalo dall'inferno, ricordandoti della fame e della sete e di ogni tribolazione che mi toccarono insieme a te. E Gesù le rispose e le disse Sia fatto come tu hai detto e adempirò ogni tuo desiderio. Forse che non sono stato fatto uomo per te, giuro per me stesso che giammai sconfesserò il mio patto. Animati da questa tradizione, i cristiani d'Etiopia sono sempre ricorsi alla Madonna pieni di fiducia, di essere ascoltati e di ottenere misericordia e perdono. Una antica preghiera eucaristica di questa chiesa africana inizia rivolgendosi alla Madonna, invocando la sua intercessione presso il figlio suo. Il testo, molto bello, riflette e sviluppa i contenuti del patto di misericordia. In profumo soave di santità, offriamo al tuo nome, Maria, lodi e umile rendimento di grazie, perché tu hai generato per noi la vittima cultuale e gradita. Tu sei la pura tra i puri. Noi invochiamo la tua grandezza, che il discorso è incapace di esprimere. Supplichiamo te, o Vergine, mentre invochiamo i padri antichi. Tu sei la speranza loro e di tutti. Intercedi presso il figlio tuo, affinché conceda il riposo alle loro anime nel paradiso delle delizie. O Maria, centro di tutto il mondo, il tuo grembo è il più vasto dei cieli, e la bellezza del tuo volto splende più del sole. È proprio vero che la Madonna è sempre e solo misericordia. È un dono della bontà del Padre. Dall'alto della croce è stata donata a ciascuno di noi dal figlio morente. Non contento di aver donato la sua vita per noi, Gesù, dall'alto della croce, ci ha donato ciò che di più caro possedeva, la madre sua. Ricorrendo a lei, certamente otterremo misericordia. Questo dono, come affermava il Papa Giovanni Paolo II, è rinnovato ad ogni celebrazione della Santa Messa. Ogni volta che sui nostri altari viene celebrato il sacrificio della Messa, Gesù ripete a ciascuno di noi le parole che rivolse a Giovanni. Figlio, ecco tua madre.